Napoli, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di corruzione nell'ambito di un'inchiesta della procura di Napoli su un giro di corruzione all'ospedale Caldarelli l'imprenditore del caso Consip, Alfredo Romeo. Insieme a lui è finito agli arresti sempre con l'accusa di corruzione il direttore generale dell'ospedale Caldarelli, Ciro Verdoliva.l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto di Napoli, Filippo Beatrice e dai PM Henry John Woodcock, Celeste Carrano e Francesco Raffaele ha portato a 16 misure cautelari nei confronti dei altrettanti indagati con accuse che vanno dalla corruzione alla frode. Tra di loro anche Giovanni Annunziata, ex direttore generale dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Napoli, e Ivan Russo, collaboratore dell'imprenditore Romeo.Sotto la lente d'ingrandimento dei magistrati della DA del capoluogo campano gare d'appalto per la struttura ospedaliera, che si ipotizzano truccate.l'inchiesta che ha portato agli arresti di oggi è quella dalla quale è nata la più famosa su Consip.i magistrati napoletani, infatti, indagando sul giro di mazzette di Romeo ed intercettando il suo cellulare e le conversazioni nello studio dell'imprenditore in via Pallacorda, a Roma lo scorso anno avevano allargato l'indagine dal solo Caldarelli al maxi appalto bandito dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione da 2,7 miliardi di euro. Su alcuni lotti aveva acceso un faro Romeo anche grazie all'aiuto di un dirigente infedele, l'ex funzionario Consip Marco Gasparri.i due sono infatti a processo a Roma accusati di concorso in corruzione. Al centro dell'indagine del procuratore ha giunto Paolo Ielo e del PM Mario Palazzi una tangente di 100.000 euro pagata da Romeo a Gasparri. Ho preso 100.000 euro nell'arco di quattro anni per informare Alfredo Romeo sulle gare bandite da Consip. Aveva infatti ammesso Gasparri durante l'incidente probatorio davanti al GIP Gaspar Estuzzo. Gasparri aveva di fatto ammesso la corruzione ribadendo ciò che aveva. Già spiegato ai PM Romani durante l'interrogatorio di dicembre scorso, quando lo stesso ammise i miei rapporti con Romeo iniziarono ad essere stabili dal 2013 con una prima dazione di 5.000 euro, dal 2014 in poi i versamenti diventarono sempre più frequenti fino ai 100.000 euro presi in quattro anni. L'imprenditore napoletano traeva grande vantaggio da questa spesa, infatti, Gasparri lo ricompensava con notizie riservate su gare di appalto bandite in Consip, in particolare si mise a disposizione per la gara FM4, quella da 2,7 miliardi di euro. Grazie a queste ammissioni l'ex funzionario di Consip ha pazzeggiato una pena uno anno e otto mesi.